Caro carburanti, una situazione che sta mettendo in ginocchio tutto il settore dei trasporti e le cose pare siano destinate a peggiorare, come conferma al nostro microfono il presidente del CTM, il Consorzio Trasportatori Montegrappa di Cartigliano. Un 30-35, adesso prevediamo anche il 40% dei costi solo del gasolio, è una bella botta. Noi facciamo forniture da circa 10.000 euro alla volta, siamo a 14. Come riuscite ad andare avanti e a sopportare questa situazione? Per ora pensiamo di fare degli aumenti che non saranno fatti chiaramente da caso, li valutiamo, cerchiamo di non incidere troppo sui costi anche dei nostri fornitori e clienti, però non è semplice da calcolare. Aumenteremo, c'è poco da fare perché finché ce la facciamo teniamo botta e poi siamo costretti, se vogliamo vivere e portarci a casa alla paga a fine mese siamo costretti, altrimenti chiudiamo. Il Consorzio è attivo dal 1976 con copertura nazionale, Monti è molto preoccupato soprattutto per il futuro dei dipendenti della società. Una cosa così non era mai successa, proprio così pesante. Aumenti tutti gli anni li abbiamo, però li abbiamo sempre sopportati abbastanza bene. Adesso è un po' più un problema. Noi siamo una trentina fra soci e collaboratori, però abbiamo dopo il personale dipendente, qua dentro mangiano 50 famiglie, quindi è una preoccupazione anche per loro se non per noi stessi. Che idee avessete fatti voi di questi aumenti che sono arrivati praticamente all'improvviso? In maniera così forte? Questo è proprio un bel dubbio, perché non riusciamo a capire se è solo una speculazione da parte delle compagnie petrolifere oppure se c'è qualcos'altro in mezzo, perché proprio così tutto in un momento, da settembre fino ad adesso un 40% ci sembra eccessivo.